L'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, ossia Joe Biden, di recente pensate che se la sarebbe presa con Vladimir Putin e lo avrebbe letteralmente insultato. In particolare Biden avrebbe detto di Vladimir Putin è un passo figlio di puttana, per lui dobbiamo preoccuparci addirittura della guerra nucleare. Insomma non ci sono buone acque, non sono acque calme, pacate e serene quelle che intercorrono tra gli Stati Uniti d'America con Joe Biden e la Russia di Vladimir Putin. Lo stesso americano Joe Biden infatti va letteralmente contro Putin, ma questo è un dato che già conoscevamo. Invece sono convinto che se dovesse essere eletto Joe Biden probabilmente i rapporti tra, scusatemi, se dovesse essere eletto puttacaso e Donald Trump potresti che i rapporti tra Trump e Putin saranno molto buoni, perché c'è un'alleanza, una amicizia molto forte tra Donald Trump, Alex Ticun e Vladimir Putin. Ticun vi ricordo che è stato condannato a pagare circa 355 milioni di dollari, ma per lui che è ricco sfondo non è niente. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Ciao a tutti e una buona giornata.